BELLA A TUTTI RAGAZZIO SONO DOCTORBIT Raga oggi stiamo facendo un glitch per fare soldi su GTA Online Avete capito proprio bene raga Raga questo ci hanno pochi soldi perchè Ci hanno pochi soldi perchè Gli ho spesi per fare tipo questo glitch perchè bisogna spendere un po' di soldi E poi diciamo rifarsi Si fanno un botto di soldi Raga finisco questa missione prendo i soldi e ci vediamo appena ho finito Ok raga ho finito la missione c'è dall'ultima clip è passato lunga se ne vediamo perchè ho fatto pure delle altre cose Vabbè raga il glitch consiste guardate Ok siamo entrati Vabbè Raga Rubo un attimo le scorte ci vediamo appena le ho rubate raga 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 Per voi sarà tipo un secondo Per me sarà tipo 20 minuti Vabbè raga ce ne vediamo appena ho fatto la missione Ok raga la missione l'ho fatta Ok raga vi spiego che cosa consiste il glitch ragazzi Allora Si qua stanno lavorando Vabbè Poi Allora fate Ehm Ah si va tutto Fate Ehm Menù interazione Ehm Rientro Ultima posizione Poi Vabbè raga andate sul tuo sul vostro computer scusate Poi dovete fare rifornisci Ruba scorte Dovete fare conferma Poi 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 vi arriverà una chiamata di LGT Voi dovete rispondere Se non vi arriva subito Significa che state laggando nella sessione pubblica Ah Dovete stare in una sessione pubblica soprattutto Vabbè Poi dovete opzion Durante la chiamata Trova nuova sessione E poi raga Noi ci becchiamo appena Stiamo nell'altra sessione Che raga Bene Ho fatto sto passaggio Il cambio di sessione Poi raga Voi entrate dentro Raga E potete vedere che Cioè raga Con poco tempo Cioè Quando noi dovremmo aspettare 20 minuti Per fare 30.000 E' aumentato il valore Raga guardate 30.000 Vabbè raga Per questo Per questo video è tutto Lasciate like Sfattuto Condividete Qui da DocOrbit E' tutto E' bella E' bella E' bella E' bella E' bella